La Prefettura di Teramo e la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia hanno sottoscritto un protocollo finalizzato alle azioni di supporto al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto produttivo locale. Il servizio, denominato Rex, si baserà sul fornire i dati camerali alla Prefettura che potrà così svolgere un'analisi più dettagliata delle imprese locali e impedire possibili infiltrazioni mafiose. Un protocollo importante è la Camera di Commercio. Come interagirà con la Prefettura? Un protocollo molto importante che in qualche modo va a tutelare la legalità. L'abbiamo messo a disposizione della Prefettura e di tutte le interforze proprio per permettere di monitorare quelli che sono gli andamenti societari delle aziende del territorio per creare sempre più un tessuto legale. Su quali dati in particolare vi concentrerete? Noi sicuramente ci concentreremo sugli assetti societari, naturalmente ci concentreremo anche sui dati relativi alle maestranze che operano nella provincia perché sono elementi che spesso suggeriscono alcuni elementi di valutazione ai fini antimafia. Naturalmente la banca dati che Infocamere attraverso Regional Explorer Rex ci fornirà sarà affinato con la capacità di analisi e di indagine delle forze di polizia. Noi come Prefettura offriremo un punto di raccordo e cercheremo di tenere insieme in versione interforze naturalmente tutta l'attività di indagine che dovrà poi sfociare in proposte che il gruppo interforze potrà fare al Prefetto per l'adozione di misure antimafia più impegnative.